Ciao a tutti, oggi siamo nella mia cucina, oggi è venerdì 25 agosto, siamo nella mia cucina col mio cane Eccola E oggi per la prima volta Luca tace, quindi abbiamo già una conquista Oggi saremo qua a preparare una ricetta che è un mio cavallo di battaglia Che mi viene relativamente bene, è una farinata al forno In realtà io ne faccio due versioni, oggi prepariamo quella al forno Allora, abbiamo scritto la ricetta Ci vogliono 250 grammi di farina La ricetta base è con la farina di ceci Ma noi utilizziamo una farina di pisello proteico Che Luca vi farà vedere, non è pubblicità Ma noi ci troviamo bene con questa farina che ce la porta il mugnaio E' molto più buona della farina di ceci Perché gli dà un gusto molto più buono Oltre alla farina di ceci, è semplicissima perché ci vuole 700 grammi di acqua Sale, un cucchiaino Pepe a piacere e 4 cucchiai d'olio Allora, questa ricetta verrà fatta in due step Perché oggi faccio la pastella E domani la infornerò Allora, bisognerebbe fare la pastella almeno mezza giornata Prima di quando uno la inforna In modo tale che arieggi bene Soprattutto per quelle persone che magari non sono tanto abituate a mangiare farina di ceci Farina di legumi o legumi in generale Questo aiuta, facendo riposare la pastella, aiuta a... Come dire... Alla digestione alle persone che non sono molto abituate Io di solito la faccio il giorno prima Perché la faccio stamattina e domani la inforno Allora, qua c'è già pesato 250 grammi di farina di ceci Ci mettiamo l'acqua Che ho già pesato anche questa Fredda Perché una volta ho provato con l'acqua calda È un po'... Fa un po' dei grumini E la sciogliamo con una frusta Allora, quella ricetta che vi ho fatto vedere È la ricetta base Proprio base, base, base Io... A me piace ogni tanto arricchirla con dell'altro Allora, di base avevamo detto che ci voleva Cerchiamo di mischiare e togliere un po' i grumi Ah, particolarità, la farina di pisello Ho notato che non schiuma molto Anche quando la lasciamo riposare A parte adesso che l'ho mossa appena appena Non fa uno strato di schiuma Mentre la farina di ceci ogni tanto dovete schiumarla Perché fa tipo un centimetro di schiuma Pepe, a piacere A me piace, quindi ci la mettiamo Poi ci mettiamo un cucchiaino di sale Io ho il dosatore che è un teaspoon Adesso gli diamo una mescolata E poi ci mettiamo l'olio Lì c'era scritto 4 cucchiai di olio Io vado un po' a sentimento Uno Due Questo qua è olio che ci ha portato il nostro amico Stefano Quattro Ok E la base l'abbiamo fatta Io adesso ci metto un po' di rosmarino Del nostro giardino Che ieri ho tagliato E poi, visto che a noi piace, ci metto la cipolla Che è la nostra cipolla Non so che tipologia sia Se il cameraman mi aiuta Se no, se non la sa, non importa Cipolla È un po' rosata, non lo so Comunque Ok Semplicissima La pastella è fatta Adesso io la copro Perché ho questi contenitori col coperchio La lasciamo riposare in frigo Ripeto, io la lascio 24 ore Se potete 24 ore Se no, anche mezza giornata Insomma E ci vediamo domani Con la seconda parte della farinata Perché poi Della ricetta Perché poi ho scritto Quando si inforna Il cane Poi i tempi del forno Ovviamente variano molto dal forno Ah, l'importante Questa è una dose per una teglia Da 27x36 cm È una teglia abbastanza grossa Ma domani vi faccio vedere È una dose che va bene per questa teglia Perché rimane bella bassa Bella sottile Se me ce la volete un po' più alta Ovviamente prendete una teglia più piccola Però non so come cuocerà all'interno A me piace più bassa Niente Ci vediamo domani per la seconda parte Ciao a tutti Ciao a tutti Oggi è sabato Ovvero il giorno dopo Di quando ho fatto l'impasto Schiuma Di solito la farina di ceci Invece fa proprio uno strato grosso Di schiuma Invece questa no Ok Adesso ce l'abbiamo pronta La travasiamo nella teglia Allora Allora La ricetta di base Dice 220 gradi per 30 minuti Io ho già acceso il forno Da 5 minuti La mettiamo a 220 per Guardate un po' voi Almeno mezz'ora Se non anche 35 minuti Grazie Aiuto della regia Io la metto C'ho 5 piani Lo metto nel penultimo In fondo Grazie E adesso dovrebbe andare Poi stasera Vi faremo vedere Quando la mangiamo Di solito Una teglia del genere Ce la facciamo bastare Per due Per due cene Quindi È una Una buona preparazione Per qualcuno Che vuole Portarsi un po' avanti Con i lavori in cucina Ce l'ha per un po' di giorni La mettete in frigo Resiste anche due o tre giorni Voglio dire E niente Ci vediamo stasera Per il risultato finale A più tardi Ciao a tutti Siamo alla sera E vi facciamo vedere Intanto come è venuta la farinata Che secondo me è venuta molto bene E poi vi facciamo vedere Già che ci siamo Alla nostra cena Quindi farinata Un'insalata mista Con cavolo cappuccio Cipolle Pomodori Olive Basta credo E poi ci mangiamo Anche il nostro pane Che avevo fatto ieri Con lievito Madre Io Tendenzialmente Mi piace scaldarlo Un po' Nel forno Mentre scaldo Le altre cose Perché mi piace Il pane più croccante E E poi ci beviamo L'acqua Della nostra fonte Una cena semplice Ma secondo me Molto gustosa E Ah Una dimenticanza Che ho avuto oggi Quando facevo la ricetta La teglia Ovviamente Quando fate Quando mettete La pastella Della farinata Dovete ungerla bene Io non la faccio mai Con la carta da forno La faccio proprio A teglia Benunta Dovete non essere Stitici con l'olio Un olio Di semi Va benissimo Mentre l'olio Che mettete nella pastella Sarebbe meglio Un olio buono Un olio di oliva Ecco E niente Adesso io E Luca Il mio cameraman Vi salutiamo Perché adesso ci parliamo Questa buonissima cena Buona serata E ci vediamo Ciao